Ciao a tutti ragazzi, sono Onda Marina e questo video è l'aggiornamento del pongo, ovvero delle mie creazioni con i pongo. Allora qui ci sono sempre quelli che vi ho fatto vedere, o più dei nuovi che ho fatto adesso. Allora ho fatto una faccina di un gatto, un cuore, questo qui che sarebbe, o scusate, una specie di kebab, una cosa del genere. Vedete, vabbè, poi questo polipetto, che carino, questo mi è venuto bene come il pinguino, questo qui devo dire che è venuto bene come ho fatto il pongo, no. Vabbè, questo è tutto l'aggiornamento delle mie creazioni con il pongo e al prossimo aggiornamento o video. Ciao! Ciao! Ciao!